Il prossimo 19 giugno si vota per il ballottaggio delle elezioni comunali. Fino a domenica sarà possibile richiedere il duplicato o la sostituzione immediata della tessera elettorale. Per tutta la settimana le postazioni delle municipalità saranno potenziate passando ad 80 complessive e gli orari estesi dalle 8 alle 18. Inoltre è prevista l'apertura straordinaria per sabato dalle 8 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23. Infine è sempre possibile richiedere il rinnovo o il duplicato con rilascio immediato presso la sede del servizio elettorale al parco quadrifoglio dalle 8 alle 18.